ciao amici di vespa crazy riders benvenuti al nuovo video oggi ci prendiamo cura della nostra vespa vedremo come andare a lavarla e proteggerla nel modo migliore ogni quanto lavarla beh no ragazzi non lavate la vespa perché con l'acqua si arrugginisce e poi la dovete buttare via al prossimo video no vabbè a parte gli scherzi come sapete vanda diversi chilometri viaggi anche in condizioni abbastanza impegnative alle spalle ma si presenta ancora molto bene quindi sicuramente una buona manutenzione un buon lavaggio una buona protezione fanno la differenza e alla lunga ci aiutano a conservarla meglio prevenire la ruggine eccetera eccetera questo non vuol dire che la dobbiamo lavare tutte le settimane prima del raduno prima di ogni uscita ma quando è palesemente sporca quindi quando magari c'è della sabbia o del sale dipende dall'utilizzo e quando lo sporco diventa tale da poter rovinare la nostra vespa il primo passaggio che andiamo a fare è un pre lavaggio un pre wash lo possiamo dare con questo nebulizzatore o con uno spray normale e questo serve a sciogliere lo sporco prima di andare a lavarla con guanto perché altrimenti non faremo altro che strofinare la sabbia lo sporco sulla carrozzeria quindi con un pre wash andiamo a distaccare il grosso dello sporco e farlo scivolare via questo va dato a secco dal basso verso l'alto di modo che lo sporco man mano che si stacca scivola via non si accumula su se stesso è molto importante andare ad agire sotto che è la parte più delicata e più soggetta a sporcizia e ruggine andiamo ad agire con un pennello nei punti più sporchi prima di iniziare a lavare togliamo eventualmente i documenti o gli oggetti che non vogliamo vengano bagnati all'interno del cassettino perché l'acqua anche se c'è la guarnizione passa comunque partiamo dall'alto con un getto molto delicato per evitare di andare ad aggredire i punti dove sotto c'è la corrente come magari sotto il nasello dove ci sono dei cavi bene anche sotto adesso con un guanto in microfibra iniziamo a distribuire bene lo shampoo dall'alto verso il basso mi raccomando non fatelo asciugare nel frattempo tenete sempre la carrozzeria bagnata iniziamo dalle parti meno sporche più delicate e poi via via andiamo nelle parti più brutte più sporche perché il guanto si sporcherà di conseguenza rischiando di andare a rigare le superfici più belle se partiamo da quelle più sporche procediamo con il risciacquo adesso con un pulitore e un panno in microfibra andiamo a pulire le zone più nascoste o più sporche anche quelle sotto le pance che non ho tolto prima perché perché sotto ci sono i componenti elettrici quindi è vero che si possono coprire magari con del cellophane ma non mi fido a spruzzarci direttamente i prodotti quindi togliamo le pance e a mano piano piano con un apc un pulitore generale andiamo a pulire e rifinire tutti i dettagli con questo panno speciale che è un panno per asciugatura quindi ha un potere assorbente elevatissimo è in grado di asciugare un intero veicolo senza dover essere strizzato ed inoltre ha una trama molto morbida che non graffia niente dopo averla lavata bene è ora della finitura quindi con questo prodotto possiamo andare a trattare plastiche e metalli indifferentemente ottenendo ottimi risultati di finitura quindi di gloss, di lucentezza, di protezione sia appunto della carrozzeria che delle plastiche dal sole è molto comodo perché vedete dà molta più lucentezza, un tocco finale di pulizia è facile e veloce da dare senza precauzioni particolari ovviamente lo andiamo ad applicare con un panno super morbido che evita assolutamente di rigare, di creare swirl attenzione però, questi prodotti specialmente quelli per la protezione delle plastiche sono scivolosi quindi non dobbiamo darli sulle manopole, sulla pedana, sul pedale del freno e nemmeno sulla sella come abbiamo visto nel video della lucidatura ci sono prodotti come dei sigillanti che offrono una protezione ancora superiore anche a livello di durata sulla carrozzeria e questo vale anche appunto per le plastiche dove ci sono dei prodotti molto efficaci nel tempo però la facilità di applicazione e la praticità di questo Quick Detailer secondo me sono insuperabili lo diamo un po' più spesso ma senza trocchi problemi avete visto indifferentemente su plastiche e carrozzeria e ci dà una finitura e una protezione veloce quindi sulla Vespa secondo me è l'ideale bene ragazzi lavata e stirata iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video l'unica cosa che ci rimane da fare adesso è andarci a fare un giro così l'asciughiamo ancora meglio e ce la godiamo un po' al prossimo video